Buon pomeriggio, bentornati all'anno zero, moda caffè di Castel Massimo Veroli per un ennesimo appuntamento con Teletifosi Sport Show! Avevo solo voglia di staccare, andare altrove, non importa dove, quando, non importa come Avevo solamente voglia di tirarmi su, per non pensarti puoi lasciarmi ricadere giù E allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale, quando la pioggia cade, cadi tu Cercavo un mare caldo e ho trovato te, col vento così forte, non dirmi buonanotte